200 occhi elettronici puntati sul pubblico e sul campo, una videosorveglianza antidisordini all'interno e antiattentati all'esterno. Sorvegliato speciale è lo stadio Friuli di Udine, protagonista la tecnologia di una storica azienda friulana. Sentiamo Anna Vitaliani. 16 monitor collegati a 200 telecamere e un semplice joystick permette di orientare l'occhio elettronico e zoomare esattamente i singoli volti dei tifosi fino a 160 metri di distanza. Visitiamo in esclusiva il GOS del nuovo stadio di Udine, il gruppo operativo di sicurezza, casa delle forze dell'ordine durante le partite di calcio. Tutti i 25.000 posti sono monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così in campo, così ai tornelli, così nei parcheggi esterni. Un sistema di sicurezza realizzato da un'azienda friulana di telecomunicazioni, Calzavara, una storia di 50 anni con tre generazioni alla guida. L'amministratore delegato Marco Calzavara parla di sistema antiattentati che potrebbe essere replicato nei grandi luoghi sportivi. Oggi più che mai soggetti sensibili, pensiamo ai prossimi europei di calcio in Francia. Ma non solo, non dobbiamo fermarci solo agli stadi, ma a tutti i grossi assembramenti di persone, come possono essere gli aeroporti, i centri commerciali. Una tecnologia così è l'ideale per aumentare la sicurezza e oggi ne abbiamo bisogno. Un ottimo deterrente contro i disordini, ma anche uno strumento utile in caso di risse o altro. I colpevoli possono essere individuati e intercettati. Il questore di Udine, Claudio Cracovia, spiega cosa cambia rispetto a prima. Il modello di definizione, poi la possibilità comunque di catturare anche a posteriori immagini, indipendentemente dall'essere sull'immagine in tempo reale nel momento in cui l'evento capita. Possiamo andarlo a ricostruire anche dopo e questo per noi è molto importante. Lo stadio di proprietà dell'Udinese, interamente ristrutturato e inaugurato lo scorso gennaio, è l'unico in Italia senza barriere tra tifosi e campo, sul modello inglese, pensato per le famiglie e quindi sicuro. Alberto Rigotto, direttore amministrativo udinese. Si tradusse proprio in questo, nella possibilità di poter dire appunto alle famiglie che vorrebbero venire allo stadio, di poter dire venite tranquillamente allo stadio, perché è uno stadio sicurissimo. Grazie. 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 Grazie.